Aria sudamericana quest'anno in Sena a Ragusa, dopo i colpi che hanno permesso di tesserare gli argentini cecche Malandra e i brasiliani Elele Martinez. I giocatori arriveranno a Ragusa nelle prossime ore, sono infatti in volo verso l'Italia, poi si metteranno a disposizione del tecnico germano che dovrà naturalmente vagliare le loro condizioni, soprattutto fisiche. Si tratta di giocatori, come detto, che hanno militato nei campionati sudamericani con eccellente profitto e la rete degli osservatori biancazzurra è stata subito pronta a non farsi scappare l'occasione di portare nel capoluogo una ventata e anche un tocco sudamericano e non solo per incuriosire la piazza, di questi tempi parecchio esigente dopo le ultime stagioni non particolarmente brillanti. Intanto la squadra si sta preparando alla gara amichevole contro i cugini del Comiso in programma giovedì, una partita diventata ormai un classico della prima fase della preparazione per entrambe le formazioni. Di recente contro il Catana la squadra non poteva dare di più e ha affermato lo stesso tecnico azzurro, ma non sono mancate le buone indicazioni relative ad un gruppo che naturalmente deve ancora cementarsi e compattarsi. Grazie Grazie Grazie